ciao a tutti e benvenuti in un video dedicato alle sirene mermides queste sono nuove sirene che attualmente sono in vendita sia su amazon che nei negozi e nello scorso video vi ho fatto vedere la prima sirena che acquistai queste poi sono le altre quattro perché diciamo tutto il gruppo è formato da cinque sirene allora iniziamo da questa che si chiama harmony allora queste sirene hanno lo sguardo particolare perché gli occhi sono di vetro harmony porta una lunghissima coda di cavallo tutta rosa poi porta il microfono perché evidentemente sarà una cantante già questi orecchini c'è il collarino rosa a forma di cuore trucco rosa rosame metallizzato lucida labbra occhi celesti molto molto bella poi indossa questo top tutto rosa con queste cinture questo tipo perline poi abbiamo la coda che diciamo è blu con riflessi viola queste sono le sue pinne le pinne sono rimovibili si muovono ecco si muovono e poi c'è questa super borsa molto lunghi amiglietto e prismatica la coda bellissima 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 ok e questa è harmony andiamo avanti a qui abbiamo riviera non ho mai visto una bambola così tanti capiti non riesco neanche a parlare in piedi perché ha dei capelli che è qualcosa che è dell'incredibile e pazzesco sono bellissimi beata lei sono viola riccissimi e lunghissimi ma possono tanti 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 c'è anche questo tipo trecine nere che se non si notano giusto perché i capelli sono pazzeschi ma voi diciamo tra tutte le sirene questa è la più bella è quella che ha dei capelli meravigliosi allora anche gli occhi sono molto belli sono verdi a un trucco diciamo viola e verde porta i glitter sul viso e poi di la bocca invece tipo lucida labbra a questo è un po rock infatti alla magliettina nera con questa bellissima collana gli orecchini a spilla da balle doppio orecchino come se avesse doppi buchi anche di qua poi porta questa giacchetta tipo pina di pesce ecco per farvi capire con le borchie perché è rock l'altra mano non si vede perché piena di capelli porta anche il guantino nero è incredibile poi porta la cintura così e c'è una pinna una pinna molto una coda molto particolare come se fosse di jeans bellissima pazzesco questa sirena è pazzesca una delle più belle mamma mia c'è un viso e dei capelli che qualcosa di ingridi questa porta anche la chitarra per in questo momento non ce l'ho qua glielo tolta perché sinceramente non mi andava di metterci la chitarra la preferisco così bellissima 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 e questa è il riviera poi qui abbiamo chanel questa è la coda glitterata non so se si vede rispetto alle altre glitterata rosa porta la cintura così pure con la conchiglia questo un po diciamo questo è elegante ecco infatti portano il top è bellissimo è bellissimo il top col fiocchetto rosa poi c'è il pallicciotto così corto con le maniche a sbuffo di merletto è bellissimo ma ognuno ha le sue caratteristiche questa c'è l'orecchina a forma di cuore col collarino porta questa borsetta a forma di profumo è chanel qui c'è il suo nome e questa volta abbiamo degli occhi castani diciamo che trucco è molto leggero un po di ombretto c'è le stesse sui occhi e forse un po di lucide labbra ecco ma è molto molto leggero la capigliature stile lady gaga già questi bellissimi capelli celesti lunghissimi e qui sono hanno dati tipo fiocco che mi ricorda molto e con le di gara molto particolare anche questa bellissima magrissima ovviamente è bella se si vede ma comunque la coda è glitterata ecco la pelle è più scura rispetto alle altre questa quella che ha la pelle più chiara questa è una pelle abbronzata e questa è proprio scura bella così anche diversa rispetto alle altre e per ultimo abbiamo giordi questa è una sirena sportiva il viso è spettacolare c'ha questa espressione con queste lentiggini col cuoricino sulla guancia questa bocca mi sento di impazzire quando la guardo ma come trucco anche un leggero devo dire da questo giallino così vorrei avvise vorrei avere il viso della bambola porta gli orecchini a cuore la collana con tutti i cuoricini mamma mia come bella è questa questi capelli tutte trecce nere e bianchi con i codini tipo sailor moon ecco anche questi sono lunghissimi cosa abbiamo attaccato qui c'è la così ce li ha rimasti così allora indossa questo top piccino giallo con la scritta swing team bello e sportivo in effetti ecco con questo piumino giubbotto a piumino glitterato molto molto carino stile bresca in mano c'è gli occhialini questa la pinna come vi dicevo e scusate la coda come dire una è una sirena sportiva infatti come questa finna mi ricordo un po una tuta in effetti e questa queste pinne mi ricordano una scarpa mentre le altre diverse ognuno c'è una finna diversa una coda una pinna diversa comunque ognuno c'è una forma di questo è più a pesce evidentemente sì sono tutte diverse ognuno una sua caratteristica e una sua bellezza nessuno è brutta diciamo non è cosa una bellezza diversa questa pure molto bella e sportiva molto bella e come borsetta c'è questa qui questo sarebbe il pallone che però porta nella sua borsettina e quindi ricapitoliamo lei e chanel la sirena elegante giordi la sirena sportiva riviera mamma mia la sirena rock star e questa è harmony e come la dove la sirena pure questa è molto elegante come la vogliamo definire questa è la cantante molto bella bel colore di capelli ok e queste sono le nuove mermite spero che il video vi sia piaciuto se non avete visto l'altra l'altra sirena che è bellissima c'è un viso bellissimo con lentigini e pieno di stelle ve la consiglio di andare a vedere subito e se vi piacciono le sirene andate a vedere anche il video della scorsa di qualche settimana fa ecco e questa è la collezione completa spero che il video vi sia piaciuto ma soprattutto le sirene vi mando un bacione alla prossima ciao ciao